Buonasera Padova Pride Village, siamo qui anche questa sera, ricordo Padova Pride Village è la festa di tutti, cultura e non solo. Siamo qui con Dino, che se non sbaglio è il direttore artistico, che ci racconta un attimino questa sera come funzionerà appunto questo musical, che stiamo chiamando musical. Sì, è un'opera rock della PFM dove ci sono sette interpreti, sette cantanti con quattro ballerini, è comunque una storia d'amore che rievoca la storia di Dracula, del conte Dracula, che trova una fotografia, la vedremo all'inizio, dove gli torna in mente la sua vecchia innamorata Mina, parte per Londra alla ricerca di questa, di amagliarla e di portarla con sé. La porterà alla fine all'amore, quindi alla morte, però portata dall'amore verso il suo amato. Quindi insomma il tema è l'amore anche questa sera? E anche questa sera sì. Tutto dal vivo? Tutto dal vivo naturalmente, perciò venite, vi aspettiamo tutti quanti alle 10. Perfetto, io vi ringrazio, vi mando un bacio da parte mia e anche di Dino. Anche da parte mia. E ci vediamo qui questa sera e tutte le sere fino al 30 agosto con il padre da Prime Village. Ciao a tutti. Ciao.